Siamo arrivati all'ultima parte, se il sindaco deve ancora dire due cose, vi lascio il microfono. Più che dire rimango stupito, rimango stupito della tua grinta, della tua professionalità, delle musiche che hai scelto, perché come ho capito le hai scelte tu, denotano il fatto di voler trasmettere sempre di più quello che è la cultura musicale a tutti. Hai portato più volte l'esempio del fatto che in tempi addietro, dove c'erano meno possibilità, la banda era il veicolo della musica all'interno della società. Sono proprio contento di questa cosa che l'hai ripetuta più volte e la ripeto anche io adesso, perché è l'idea che avevamo anche noi come amministrazione comunale, quando abbiamo pensato portacomaro il paese della musica. La quantità di cultura che è stata espressa negli anni è un qualcosa di incredibile. Un anno particolare è il 1972, il 24 che andremo ad inaugurare alcune stanze ricorderanno delle persone che in quell'anno specifico riprese in mano quello che era la banda di allora e la portarono avanti traghettandola in epoca moderna. Non svelo chi sono le persone, non so, Andrea? C'è da qualche parte? Andrea mi raggiungi? Benissimo. Andrea viene qua, ma c'è anche una cosa che per me, no? Non penso. Infatti in questo periodo si raccolgono le nocciole con i fiori. Questi fiori per chi sono? No. Sono per questa persona incredibile. incredibile. Un applauso fortissimo da te. Vogliamo vedere le lacrime di gioia. Come no? Anche il cuore d'acciaio questa dove no? Ma male ai piedi, male ai piedi. Possiamo dirle di togliere le scarpe se vuole. Questo piccolo sketch, in realtà non è uno sketch, ma in realtà è per dimostrare l'affetto davvero che abbiamo verso di te, verso l'impegno che ci metti e a te veicolo per tutti. Grazie ancora, grazie a te. Sempre ad Andrea. Sì, Andrea mi ricordo una cosa. Devo dare il messaggio, diciamo, più gradito a tutti voi. Dato che sarete entusiasti di questa serata e magari volete anche, fra virgolette, sdebitarvi dello spettacolo offerto, potete voi fare un'offerta uscendo. Ci saranno delle persone, ovviamente niente calca, niente ressa, eccetera, eccetera, eccetera. Con calma e tranquillità avete tempo di tirar fuori i soldi che volete, assegni, pagare con Satisfay, tutto quello che volete per la banda, davvero. Un applauso ancora a questa banda. Chi bella vuole apparire, però, la situazione è diventata lunga. Tanto siamo nella parte più moderna, nelle cover del Museo della Fili, quindi scanzano da meno guai.